bentornati sul canale oggi aprirò anch'io finalmente la mia collezione ultra premium molto in ritardo rispetto alle date di uscita però ho scelto un fornitore che è sempre stato puntuale invece adesso evidentemente c'è troppo lavoro e quindi fa fatica a starci dietro infatti appunto mi è arrivata oggi ma penso che non ci comprerò più purtroppo ci ho già preordinato anche il prossimo set che uscirà quindi ancora per il prossimo spacchettamento probabilmente avrò ritardi però dai vabbè comunque almeno è arrivata non ci possiamo lamentare qua abbiamo i nostri bei pacchettini il portadeck che non vado ad aprire la monetina che non interessa cosa che a me interessa sono queste tre promo ok speriamo che si hanno messe bene perché la confezione era un po schiacciata anche c'è da dire non so se si nota un video però tipo questa zona qua era tutta imbarcata evidentemente il pacco ha preso una pacca adesso come cazzo si apre vedere questa si sfila da qua ok ecco la metallica sicuramente c'era un modo migliore di aprirla però vabbè metallica incastrata ok bellissima mi mancava finalmente sono tornati a fare queste bellissime carte metalliche che sono fantastiche questa porca troia ragazzi non so se nel video rende ma è veramente in condizioni impeccabili c'ha i bordi perfetti è centrata non ha imperfezioni adesso non so voi sapete se fanno gradare anche queste perché questa qua sarebbe veramente il caso di farla gradare perché è veramente spettacolare bene la metto qua sopra qua la promo di un mio con le forbici per evitare di danneggiarla devo ancora trovare il charizard beh qua abbiamo un codice per voi dobbiamo ancora trovare il charizard spero che in questo oltre premium salti fuori in caso contrario comunque a questo fornitore ho preso un bundle praticamente tutti i set tutti i prodotti del 151 tranne le mini team da collezione e la collezione con poster quindi appunto dai c'è un prodotto per tipo spero che mi salti fuori il charizard non per bellezza perché effettivamente ne fa anche un po cagare quella artwork però ovviamente andrà messo in collezione essendo una delle carte più costose del set va trovata dipendesse per me è la carta più costosa anche questa ragazzi ben centrata bellissimo questo mio tu dipendesse per me la carta più costosa del set sarebbe il nido king che è qualcosa di spettacolare bom oltretutto nell'attesa non avevo niente da fare mi sono fatto anche il santino del charizard sperando che mi aiuti a trovarlo come portafortuna lo tengo qua vicino e speriamo che ci assista dai comunque sto guardando l'altro giorno l'album come collezione sono molto buon punto quindi appunto dai parlo di reverse comuni non comuni solite carte economiche però questa è una delle poche che mi mancava è saltata fuori anche lei però comunque già riuscire a finire le comuni non comuni rare o loro reverse è una bella cosa ok primo pool è uscito un mio ex che mi mancava quindi tanta roba manca la carta qua però 369 c'era solo una reverse questo pacchetto era un po pagato va bene ok andiamo col prossimo pacchettino dovrebbero esserci tre carte brillanti e una trovate solo due vediamo se questo è normale bene un altro pj eradicate invito di erika magneton arcanine spettacolo reverse mio reverse e aerodactyl orografico uno dei prossimi acquisti che farò sarà l'aerodactyl alternative di lore che ancora mi manca e mi piace un sacco come carta quindi è tra le mie priorità degli acquisti su card market però dai ultimamente sto vendendo anche parecchio sempre super market quindi appunto c'ho lì da parte un bel po di soldi e posso permettermela senza diciamo metterli direttamente dal portafoglio ma come aver fatto un trade quindi va bene snorlax reverse bene grave le reverse e bill e plum orografico ok beh parlando dell'ultra premium questa qua di quelle finora uscite è la più brutta e più fatta male in assoluto perché fa veramente cagare è tutta molla ha una qualità veramente scadente però che dire c'ha dentro queste tre promo che è spettacolare c'è proprio niente da dire alle tre promo niente da dire potevano essere un pochino più generosi coi pacchetti secondo me però ovviamente devono guadagnarci e quindi le cose non te le regalano ok un altro pacchettino vuoto il prossimo sarà pieno dai si spera energie devo ancora trovarne una olografica però vabbè le dovrei già comunque aver trovate tutte quindi non è tra le mie priorità a trovarle energie olografiche farfetch reverse ghastly reverse e sotto un eletrode olografico ok vuoto anche lui è partito così bene il primo pacchetto e poi dopo tutto il resto ok l'actabath rion tangela koffing polivrat pigiot omanite un altro arcana in reverse che mi va bene perché uno va nella collezione e l'altro nell'album delle carte che mi piacciono perché questo è tanta roba sotto abbiamo un paras reverse e un marowak olografico ok non sta andando proprio 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 bene però dai se salta fuori un charizard da un certo punto ok un'energia base olografica l'abbiamo trovata questo codice era quello della collezione lo metto via gli altri metto su carmarket execute clefairy machop porygon hitmonlee warthorpe hypno hitmonchan prima reverse sidra seconda reverse e dietro abbiamo nightless ex non sono sicurissimissimo ma dovrebbe essere doppia anche lei comunque vabbè la mettiamo le e anche questa mettiamo qua ok siamo già più o meno a metà sbustamento si energia base normale ho preso l'ultra premium più leggera dai video che ho visto tutti quelli che aprono l'ultra premium ma proprio tutti trovano il mio gold voglio vedere se anch'io almeno ho la fortuna di poter trovare quella carta rayon reverse adesivo energia reverse bella questa è un ganger olografico mi farebbe piacere vedo che tutti poi la trone paragonano quello inglese metallico con quello italiano cartaceo avrò proprio tutti eh avrò visto 4-5 video di ultra premium e tutti l'hanno trovato quindi dai ripongo buone speranze anch'io paras voltorb prime ape ferro eh si erano un po' incollate onyx geodude polivrat e omastar che delusione oh dai mi mancano 5 pacchettini ancora 5 pacchettini che schifo neanche l'energia base non trovo proprio niente di niente caterpie eevi tentacle eevi sauro slobro machok omastar rara reverse va bene ci piace palloncino gigante e un articuno quarto ultimo pacchettino spero che siano tutti pieni questi ultimi 4 pacchettini perché veramente mamma mia oh dai sil doduo tentacle ratata venomoth rapidash nidorina che anche lui mi mancava itmonchan reverse di nuovo ditto reverse gigly puff iax ce l'ho trovato 3 iax e basta ultimi 3 pacchetti scandaloso mamma mia che schifezza energia base oscura dai 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 tg8 magmar schelder snorlax sunslash nidorino magnamite reverse new reverse flareon ultimi due pacchetti ultimi due pacchetti dai dai energia base che dal video sembrava quasi che me li fossi messi apposta del tipo i primi pacchetti tutti vuoti per lasciare i bei pool in fondo ma qua sono tutti vuoti cazzo paras boltor krabby pincer trasferimento di bill golbach electrode e cans reverse e wheezing holografico niente ultimo pacchettino se qua esce il charizard sono contento se no molto meno molto molto meno se non esce niente da quest'ultimo pacchettino ma deve essere qualcosa di veramente pesante è stato uno spacchettamento veramente di merda ragazzi è un prodotto veramente schifoso stario charmander ah poi comunque la pellicola l'avevo tolta io all'upc ma era arrivata pellicolata quindi non è che è stata manomessa diciamo nido queen victribal farfetch reverse magnaton e un magian pollografico bene è stato veramente uno schifo una perdita di soldi allucinante sta collezione ci si vede al prossimo video sperando che vada meglio ciao ragazzi grazie a tutti ci si vede al prossimo video